Parliamo di consulenza finanziaria indipendente. Oggi finalmente un private banker, un promotore, un bancario può capitalizzare la sua esperienza, diventare consulente indipendente e affiancare i propri clienti aiutandoli a pianificare gli obiettivi della vita, a proteggere e gestire al meglio tutto il patrimonio consigliandoli in ogni decisione di carattere finanziario. Con i nostri master formativi, la piattaforma IFANE 3.0 e il supporto dell'ufficio studi Consultic, è possibile effettuare l'analisi dello stato patrimoniale, del conto economico e del cash flow del nucleo familiare e offrire un servizio di pianificazione previdenziale, assicurativa, immobiliare e successoria. Ci rivolgiamo anche ai gestori corporate PMI delle banche e ai consulenti aziendali, che diventando indipendenti potranno essere più efficaci nella consulenza finanziaria e le proprie imprese clienti. Si sta infatti sviluppando la figura del direttore finanziario esterno all'azienda, che affianca l'imprenditore e i suoi uomini di fiducia nell'area finanza per negoziare con le banche e aumentare il potere contrattuale dell'impresa nei confronti dell'intero sistema. Oggi anche i giovani appassionati di finanza possono avvicinarsi alla consulenza Fionli e imparare da noi, che siamo operativi da oltre 15 anni. Abbiamo usato la tecnologia e messo a punto tutti gli strumenti per lavorare al meglio. Abbiamo già insegnato a molti giovani a prestare la consulenza indipendente e a farsi remunerare dai clienti in modo semplice e chiaro. Infine, ci rivolgiamo anche agli investitori che vogliono gestire in autonomia il proprio patrimonio, per essere padroni delle proprie decisioni, utilizzando l'analisi e la ricerca finanziaria indipendente di Consultic. Questi potranno accedere alla riservata IFANET 3.0, interagire e confrontarsi con i nostri analisti, disporre della nostra analisi macroeconomica, tecnica, dei portafogli modello e delle asset allocation per obiettivi. Potranno accedere alla selezione di ETF, fondi, certificati, obbligazioni e azioni e farsi analizzare mutui, derivati, swap, conti correnti, leasing e altri finanziamenti. Vi aspettiamo a Verona, potrete conoscere tutto il team e saremo a vostra disposizione per rispondere personalmente a tutte le vostre domande.